ehi ciao ecco la bicicletta si è venuta e come doveva venire scusa ma non l'hai comprata ma che comprate comprate questa l'ho avuta ce ne sei ieri mattina sai la campagna qua la stradina di campagna me ne sono andato sai fa una passeggiata nella stradina io sono proprio un po d'aria a un certo punto arrivo da dietro sento il rumore della bicicletta mi giro e vedi questa ragazza una bella guagnetta una bellissima ragazza che si ferma vicino a me fa ciao senti possiamo fare amicizia si possiamo fare amicizia e insomma abbiamo in cominciato a parlare più del meno chi sei come ti chiede che fai che non fai sai che più avanti dopo il vigneto quella vecchia a casa quel rudere questo è un po se si è avviato verso il pagliaio io l'ho seguita sta facendo ha buttato a te la bicicletta si è buttato sul pagliaio ma dopo si è tolto le mutande madonna Enrico e mi fa prendi quello che vuoi ammesso e tu che hai fatto è come una bicicletta io l'ho seguita scusa se ne è molto anche non dovevo fare scusa è scusa è scusa come tu è andrico ahahahah he è davvero grazie 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 a tutti